buongiorno sono riesumata avete visto che stiamo preparando questo nuovo negozietto fantastico allora purtroppo ragazzi mi impegna giorno notte sera giorno notte sera perché sto cercando di ricarare una cosa carina e dietro ci abbiamo tutta un'equip preparatissima che mi sta facendo mettere le idee posto praticamente però nel frattempo qui vi aspettiamo al centro come c'è la palma ancora per poco con i grandi sconti allora vi aggiorno questi sono tutti i profumi scontati al 30 per cento come vedete c'ho anche mitsugo jean paul godier ipnotic mi è rimasta la crema vi faccio il 30 sauvage il 200 ml vi faccio il 30 carolina herrera aromatic l'isir chanel 5 solo su chanel non c'è il 30 c'è il 25 20 25 poi venite qua che vediamo che tanto li sto dando via e sto regalando la roba ragazzi quindi io vi aspetto perché il commerciale è quasi finito porteremo di là perché voi mi chiederete perché stai facendo questa svendita perché di là apriamo ufficiale acqua dell'elba che è il top del top bon parfumé che sono i profumi francesi quelli con estratto di profumo solo il 30 per cento di alcol tutte queste cose meravigliose la linea claus porto e musgo reale che anche loro lavorano con pochissimo alcol nino amodeogo ormai ci siamo innamorate non lo possiamo più lasciare la linea di ischia in esclusiva che ce l'abbiamo ischia del male a tra parentesi cominciamo perché c'è il sole a ragazze io vi sto facendo lo sconto su tutti i trattamenti corpo l'iporidicente anticellulite 20 euro a pezzo voglio dire dobbiamo cominciare i fanghi stanno scontati al 30 che vengono 27 euro un chilo di fanghi che voi vi bendate aspettate un quarto d'ora che agiscono 20 minuti poi sciacquate vita l'effetto urto per la cellulite tutta la parte bio forte professionale capelli cominciamo anche con la parte anticotuta vi ricordo che è andata in promozione le gocce antica tuta da mettere tutte le mattine per tre mesi tre gocce nella testa e diciamo tamponare e quello fa sì che vi restituisce il ph utile della vostra pelle e per far ricrescere i capellini nuovi poi abbiamo ancora il kit mascara in promozione nuba 23 euro sono 18 ml di mascara che regalano la loro matita che da sola viene quindi 18 euro quindi è proprio se dovete fare un cambio mascara ci abbiamo tutto abbiamo mandato gli orsetti al 30 per cento perché il nostro amico mario ci ha permesso lo sconto e ci abbiamo ancora qualche pezzo di nicolì che viene poco quindi lo sconto non me lo chiedete perché veramente questi bonbon li abbiamo quasi finiti poi abbiamo tutte le pashmine nuove queste in cotone morbide quelle in viscosa che vedete arrotolate da qualche parte sono arrivati colletti come avete visto le storie che me l'avete chiesti tanto per metterle sopra di t-shirt mi è arrivato qualcosa la la di fantastico e ci abbiamo ancora una parte di pelletteria scontata orsetti scontati 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 a nebbiera scontato un'altra parte di pelletteria scontata se dovete fare un cambio borsa acquistate la pelle che è fantastica e quello che vedete di aeronautica vi premetto anche i portafogli aeronautica andiamo dalle 40 euro a massimo 55 euro polo e t-shirt 40 e 30 euro sotto costo le cinture che eccole non so se si vedono bene con la luce eccole sono cinture da 79 89 le pagate 40 euro 50 euro al massimo 55 proprio al massimo massimo ci abbiamo queste cinture sono tutta pelle se le italiane non sono fatta scaglie e tutta pelle è aeronautica ufficiale poi ci abbiamo ma perché oggi mi si mi si inceppa il coso delle va bene questi sono i problemi della diretta ci abbiamo anche polo club scontato le elastiche che me l'avete chiesto tutte in pelle tutte scontate e tutti i cappellini uomo estivi 30 35 euro questa è tutta la parte scontata 30 maggio chiusura ufficiale a quindi fino adesso ci stanno gli sconti poi dal primo giugno di la prezzo intero e ci portiamo teologi anche che la nostra linea top del momento che fa la marcia voi vi siete innamorati di stamaccia ma chiedendo in continuazione ci avete ragione perché il top ci abbiamo tutte le maschere che mi sono me l'hanno risortite la maschera tela maschera purificante la maschera idratante la maschera seno e tutta l'aila che ve lo dico a fare l'aila malinca cioè i teletubbies attaccati al telefono che fanno così tutta la linea cosmetica tutta in no in promozione quella è normale poi faccio sconticino quando venite ci abbiamo per questo periodo vi ricordo iniziamo anche la cura capelli oltre che l'anti caduta oltre che il rimpolpante oltre che il rimpolpante e le lisire che sono seminino rinforzati ci abbiamo le bustine bifasiche che cosa sono queste che voi me lo chiedete sempre sono bustine voi vi lavate il capello lo potete fare una volta al mese proprio al massimo ogni 20 giorni e sono specializzati per capelli sfruttati privi di trono di tono rimpolpanti capelli rovinati danneggiati mossi ricci senza vigore capelli grespi questa è la mavala che ha fatto la sua linea silium che è quella della tinta che mi faccio in testa senza parabeni senza siliconi senza niente rimpolpano solo loro che cosa fanno le mescolate dentro una ciotolina che vi do io dopo che avete fatto lo shampoo lo mettete in testa soprattutto sulle punte 15 minuti e sciacquate è una bomba anche bioforte la fa è quella all'acido ialuronico per proprio chiudere le punte pure quella è una bomba e niente ragazzi vi aspetto rd profumeria centro commerciale la palma siamo aperti sempre giovedì pomeriggio e domenica mattina domenica pomeriggio ci riposiamo e questa domenica non so se siamo aperti ve lo farò sapere perché solo questa domenica abbiamo no non è che ci abbia un problema il primo maggio questa domenica saremo chiusi che vanno tutti a fare scampagnata ce la facciamo pure noi io mi riposo mi finisco di sistemare tutta la barata e niente rd profumeria centro commerciale la palma ancora per poco chiusi che vanno a fare scampi